Bentornati su MyFootballJersey! Oggi vediamo insieme la prima maglia del Brighton per la stagione che è appena iniziata, in edizione FAN! Oggi vediamo insieme! La maglia è molto bella, fatta bene, ma se devo essere proprio sincero a me piaceva più quella dell'anno scorso con quella sfumatura di giallo che aveva. Il costo comunque lo vedete qui sopra, questo mi piace sempre da morire. Se volete ordinare la maglia vi ricordo che trovate qua sotto in descrizione tutti i riferimenti. Per i nuovi iscritti andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi ancora più vantaggioso. Ora vi lascio la parte finale, prima però vi ricordo di iscrivervi al canale. Se volete avere nuovi video tutti i giorni, questo è l'unico modo per farlo. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Grazie per la visione!